Vieni Gianna, grazie, scusate, ero già arrivato però purtroppo, dice quando viene, ma io già stavo qua, forse non si era visto, magari che era arrivato. Antonio, un sito, previ SPQR, grande attore, grande... Attore Maura io, sì, attore Maura, attore Cargata, è proprio attore di questi, anche attore bella Monica, se volete, insomma. No, fatti gli scherzi, dai. Allora, non fate casino per cortesia perché non si sente qua, ecco, vedi, perché non si sente veramente. Grande attore, grande romanista, dalla nascita. E soprattutto tu prenderai questo riconoscimento per la tua attività di solidarietà perché sei a capo di una squadra, della nazionale cabarettisti, andare su tutti i campi in Italia per tanta beneficenza. Sì, diciamo che questa è stata un'idea di circa otto anni fa, fondare una nazionale cabarettisti che non esisteva e quindi poter dare non solo il sorriso sul palcoscenico ma anche il campo perché se ci vedete giocare veramente facciamo ridere anche il campo. A parte gli scherzi, insomma, c'erano nazionalatori, cantanti, poi adesso sono, ogni anno emergono delle nazionali, no? Adesso hanno fatto addirittura la nazionale di fonici, dei microfonisti, dei, perché perché non farla con noi pure che... Ci fa piacere, grazie perché ricevere un premio per una cosa di solidarietà acquista sempre un valore, un valore diverso, no? A dire il tuo premio, Chi? 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 Giada! Giada! Giadina! Eccoci, buonasera a tutti quanti, non è la prima volta che io sono qui, pacifici. Giada è ormai un'amica del pubblico, sono stata anche premiata con Carlo Manzini, con l'Ivo Manzini nel passato, poi che andò nella casacca, adesso ti direi tutti i giorni su Radio Radio. Io adesso sono su Radio Radio, su tutti i giorni, dai 17.30, la trasmissione è sempre la stessa, non succederà più, abbiamo avviato l'emittente radiofonica, ci siamo, come dire, i miranditi, siamo in diretta anche su Sky, sul canale 5Rout, e sono molto molto contenta perché abbiamo avuto un grande apprezzamento da parte del pubblico di questa nostra nuova radio, quindi siamo stati accolti molto molto belli e sono felice di premiare il mio amico, perché noi siamo amici, Giuliani, eh? Sì, ma non è vero, ci conosciamo tanto, chi sei? Ma sei contento che ti premi io, Giuliani? Non mi guarda così perché siamo oggi uguali, ma io ci ho avuto più di anni, amore. Sì, sono molto contento che mi ha detto che se vada le sette coi e quindi se vada le coi non è che innalcano. Io sì, tu sai. No, no, che è? C'è successo? Ma la tua ha fatto un suoi supporto. Bene. Ecco qua, grazie. Grazie, mi sono. Grazie, mi sono. Grazie, te la faccio io questa, così. Ecco, così che si sono allegati. Grazie. Grazie. grazie 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 per questa bellissima targa spero di tornare a questo altro anno grazie 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 Antonio grazie Antonio complimenti